Ciao a tutti, ecco qui con un'altra ricetta utile appunto per farcire il precedente pan di spagna. Il pan di spagna troverete comunque alla ricetta, il link nel box di informazioni. Ecco, la pan di spagna si fa con 120 grammi di acqua, 70 grammi di zucchero e 40 grammi di rum. Ecco, ora procediamo con la ricetta, scaldiamo l'acqua e aggiungiamo lo zucchero affinché appunto ci sciolga completamente. Una volta sciolto lo zucchero, lasciamo raffreddare e aggiungeremo poi, come ho già detto, il rum. A dopo! Come vedete, lo zucchero si è completamente sciolto, ho lasciato raffreddare e ora aggiungo il rum. La nostra bagna è realizzata. Questa bagna è utile per la farcitura del nostro pan di spagna, come vi terrò a vedere poi in un prossimo video. Ciao a tutti e grazie per i nuovi iscritti e a presto! Ciao! Ciao!